Rieccoci qui, continuiamo a parlare della salute degli artigiani veneti, lo facciamo però in questo caso con Giulio Fortuni della CISL del Veneto che è coinvolta in questo accordo, come lo definiamo dal punto di vista sindacale? Ora è coinvolta nella gestione del fondo sanitario in quanto per CISL del Veneto io faccio parte del consiglio di amministrazione, ovviamente ci sono gli altri colleghi di Will e di CGL e i tre rappresentanti delle associazioni artigiane, confrattigianato, CNA e casa. Gli uni rappresentano le imprese e gli altri i lavoratori dentro e quindi c'è un interesse che converge nel creare gli elementi per avere una salute maggiore o maggiormente tutelata per i lavoratori dipendenti e per i dati. Cosa è che vi soddisfa di più? Forse è la stessa cosa che soddisfa anche i lavoratori che hanno diritto in maniera così massiccia nonostante il fondo esista da poco tutto sommato. Il fondo esiste dal 2013, l'efficienza che ha dimostrato è strabiliante, è veramente motivo di soddisfazione che si sia riusciti a creare dal nulla, da zero, in un periodo terribile come sono stati questi anni, non che sia proprio finito. Durante una crisi così pesante che ha colpito le famiglie, aver creato un fondo sanitario che ha dato, senza essere grattato dal fisco, ha dato sostegno alle famiglie, ha dato soddisfazione chiaramente anche agli imprenditori che ci hanno messo i soldi per poterlo fare. Ma perché era una cosa che mancava? Perché è stato pensato in un certo modo? Perché ci sono anche molti fondi che esistono solo tecnicamente, magari sono un obbligo contrattuale, ma di fatto poi non servono quasi a niente. No, va detto che l'esigenza era proprio quella di andare incontro in un momento appunto come quello pesante della crisi, dove non si potevano certo aumentare chissà quanto i salari, visto che avevamo la diminuzione dei posti di lavoro massiccia e le casse integrazioni pesantissime, lunghe e durature, noi volevamo dare appunto una soddisfazione incrociando quelle possibilità che il fisco aveva messo a disposizione, cioè quella di defiscalizzare la cifra che veniva spesa. Il motivo era esattamente economico e sociale allo stesso tempo, creare anche questa ulteriore aggregazione. Il Veneto non è nuovo a questa modalità di gestione bilaterale, bilaterale vuol dire le due parti in gioco, capitale il lavoro, ma che poi qua... Poi c'è il fatto che devono mettersi d'accordo, quindi deve essere per forza il giusto mezzo in qualche modo. Siamo riusciti a farlo in Veneto grazie appunto a una tradizione longeva di 28 anni ormai, di una bilateralità che era già in essere, con l'ente bilaterale dell'artizianato che si chiama EBAV e che dà prestazioni sia al lavoratore che all'impresa. Questo è molto importante perché ognuno deve poter soddisfare nei momenti di difficoltà le proprie esigenze appunto con un qualcosa in più che si aiuta, cioè una forma di solidarietà vera, applicata, che in questo caso con una spesa minore rispetto a quella che era prevista dal livello nazionale, forti di un'esperienza che avevamo e di un partner che va detto, RBM, è il partner attuale, RBM Salute, è la mutua che è partner di San Inveneto su questa... ovviamente è un partner selezionato, nel senso che abbiamo fatto, chiamiamolo così, una gara d'appalto. Certo, però il fatto che siate così numerosi... Il fatto che siamo numerosi soddisfa il fatto che sia stata capace RBM di interpretare anche i nostri bisogni, con qualche difficoltà di rapporto che non stiamo qui a descrivere ma che abbiamo portato ai limiti giusti. Poi la contrattazione è il vostro pane, no? E quindi siamo andati appunto forti anche di questa modalità di contrattare, abbiamo contrattato e abbiamo fatto un fondo sanitario veneto che è alternativo a un fondo sanitario nazionale. Risultato? Le prestazioni sono spalmate sul doppio della platea, in termini proporzionali, e questo dà, credo, l'impulso a continuare in questo che qualcuno chiama ribellismo contrattuale. I Veneti vogliono fare i Veneti a casa propria. Noi pensiamo che tutto sommato, Veneti o non Veneti, sindacato e imprese siano occupati per davvero e bene, in questo caso, degli interessi dei lavoratori. Potrebbero farlo anche altre fette, diciamo? Beh, tenga conto che a livello appunto nazionale si calcola che gli iscritti ai fondi sanitari siano 5 milioni e mezzo, quindi non è che siano proprio pochi, ci sono già categorie di grande estensione, diciamo, di platea che hanno milioni di lavoratori iscritti, quindi vuol dire che un fondo come esiste già nel commercio che è Fondo Est, che è attualmente il primo fondo, i metallomeccanici che hanno fondato un altro fondo obbligatorio, parliamo dei fondi obbligatori perché di quelli facoltativi ce ne sono anche altri, di minore portata, di minore platea, e noi pensiamo che ci sia un terreno assolutamente ancora vergine da questo punto di vista. Perché poi 5 milioni sono tanti, però sono pochi se riferiti alla totalità, no? Esattamente. L'obiettivo di un sindacato, tra virgolette, serio non è e non sarà mai quello di sbaracare la sanità pubblica, perché i fondi possono rappresentare anche questo pericolo. In realtà noi abbiamo un forte bisogno di collaborazione con la sanità pubblica e abbiamo questo bisogno, credo sia sentito anche dalla sanità, e si possa mettere assieme le forze per gestire al meglio e dare una copertura di assistenza sanitaria integrativa anche ad altri soggetti che non sono legati al mondo del lavoro. Per esempio? Per esempio i familiari, come stiamo facendo. Non è detto che un familiare sia dipendente di un'altra azienda, se lo fosse può avere il fondo in quell'azienda e nel caso non ce l'abbia, come abbiamo fatto questa nuova modalità sani in famiglia, che può aderire tramite il proprio papà, mamma o fratello che lavora dentro a una impresa artigiana, può aderire a San Inveneto. Quindi l'obiettivo è coprire una platea che va al di là del mondo del lavoro. Quindi tanti altri possono, ritornando alla domanda, fondare o aderire a questo. San Inveneto è stato costruito con una modalità aperta. Ovviamente sotto approvazione delle parti costituenti possono aderire molte altre platee. A questo momento ha aderito un'intera platea che sono gli operatori delle attività di formazione professionale. La loro adesione dimostra che... Ah, questa è una novità, diciamo. È una novità, sì, perché oltre a... Cioè i formatori? I formatori, certo. Che hanno che tipo di contratto? Che hanno il contratto della formazione professionale. Non avendo loro un fondo sanitario, hanno aderito in blocco il Veneto, sono dipendenti dei centri di formazione come LNAIP, come LENGIM e tanti altri che magari non so bene i nomi, ma che operano in questi... Quindi questa potrebbe essere una platea, insomma, interessante. Questa è una platea assolutamente interessante di altri lavoratori, ma noi pensiamo anche di altri soggetti. Magari lo pensa solo il sindacato, ma è molto importante che non ci siano degli esclusi nella società. Perché quando uno dovesse perdere il posto di lavoro, perderebbe la possibilità di aderire al fondo sanitario integrativo dell'artigianato, da dipendente che era. Non lo è più, perde anche la possibilità di fare aderire la famiglia, i familiari. Ma e quindi? E quindi noi pensiamo che si deve in prospettiva costruire un'adesione che pur volontaria, perché non è mica che uno lo si deve obbligare, dia copertura anche nei momenti critici. Cioè quando sarò o non sarò disoccupato, o mi sono licenziato, o sono pensionato, derivante dal settore artigiano. Quindi insomma questa... ma questa è comunque... cioè voglio dire, la sanità veneta in questo come si pone? Magari qual è stata anche un po' la reazione? Perché? Ma devo dire questo. Allora, premesso che noi appunto vogliamo sempre di più collaborare con la sanità veneta, in termini di convenzionamento. Noi per esempio potremmo costruire un interesse comune, nel segno di un interesse comune, una convenzione che ci permetta in determinati orari di avere delle precedenze. Guardate, i determinati orari sono fuori dall'orario di lavoro possibilmente, perché perdere mezza giornata per fare una visita, pagarsela sonoramente e magari non ottenere... Con mezza giornata sei nel periodo che non viene neanche remunerato, perché i primi tre giorni sono persi, non è cosa facile, mi devo mangiare le ferie, devo pagare e via. Quindi noi siamo intervenuti su questo. Vorrebbe essere per noi un motivo di orgoglio se con la sanità facciamo un convenzionamento che ci permette di andare oltre. Perché abbiamo fatto San Inveneto? L'abbiamo fatto perché le sanità sono regionali, quindi l'integrazione che noi pensiamo deve essere fatta è l'integrazione al piano sanitario che esiste in Veneto. E sono differenti regione per regione. Secondo lei, aderendo a San Inveneto, molte persone si sono sentite più tutelate, perché c'è anche un discorso di prevenzione, che è importante, che spesso si tralascia se non si è proprio costretti, che diventa anche un costo sociale tra le altre cose. La domanda è ben posta perché se guardiamo a questi ultimi due anni c'è una caduta dell'11% della capacità di spesa che le famiglie non hanno fatto in sanità. Cioè la sanità a spesa propria è calata dell'11%, è il segno della crisi e quindi quando si arriva a tagliare anche su questi aspetti capiamo che la crisi è profonda, ha colpito profondamente le famiglie. Allora per questo motivo noi primo abbiamo fatto un fondo che costa meno, quindi perché San Inveneto? Perché costa meno di quello nazionale. L'impresa mette 105 euro piuttosto che 125 per ogni dipendente all'anno e secondo il servizio doveva essere ben gestito a livello locale. È talmente ben gestito che in maniera molto rapida si può andare in qualsiasi centro convenzionato a richiedere la propria prestazione e via. Il pagamento del rimborso della visita o altro è immediato nel momento della scelta di un centro convenzionato oppure è a un mese data per quanto riguarda l'indenizzo a sportello. Abbiamo 200 sportelli distribuiti dappertutto quindi ognuno anche in termini di privacy è garantito che non deve andare attraverso l'impresa che in quel caso saprebbe cosa fare e cosa non va a fare. Ecco, allora è molto importante che si sia costruito questo e bisogna dire che c'è stata una sensibilità molto forte dell'associazione d'impresa, dell'impresa artigiana appunto, ad avere, a mettere in campo questa attività con queste modalità. Che vuol dire che per quanto ci riguarda è un terreno con il quale si vive meglio dentro all'azienda e questo è importante per noi. Bene, allora noi ringraziamo anche Giulio Fortuni della CISL del Veneto, poi le informazioni le trovate anche naturalmente in rete. Grazie a voi per averci seguito, una buona giornata a lei e noi ci rivediamo poi con gli appuntamenti dedicati come sempre all'informazione nel corso poi di tutta la giornata. Una buona giornata a voi. Grazie a tutti.